Fin tanto che YouTube mi lasci sta, io continuo, eh? Come sempre, le puntate di Miraculous sono state gentilmente offerte dagli Ambrogisti Anonimi, come si vede dal loro logo. Ok, puntata 3. Regina delle Notizie. Un nome più lungo, no? I nostri supereroi si devono far intervistare da Nadia Shamak, la mamma di Manon, quella bimbetta odiosa la quale Marinette fa da babysitter. Però Tiki se ne va in paranoia a caso. Ma Marinette, sei una supereroina, non una star! Devi restare un segreto! Un po' veni l'ansia, Tiki, secondo me Marinette la fa veramente scema. Tra lei e Chat Noir è lei quella che rompe sempre le palle sul fatto di mantenere il segreto, gna gna gna. Quindi, Tiki, calmati! Oddio, non è che il Kwami non abbia mai avuto ragione, ogni volta che non la si ascolta succedono danni a caso, chissà perché. Ma effettivamente, quei due potevano evitare di farsi intervistare? Certo, ma a quanto pare sono dei villani del cavolo. Lo accetto solo perché voglio che i cittadini di Parigi sappiano che Chat Noir e io faremo sempre l'impossibile per tenerli al sicuro. Ebbè, c'è bisogno di una scusa del genere. Tutte scuse, tutte scuse! È come se Batman decidesse di essere intervistato al David Letterman Show. E ho detto tutto. Insomma, Momo Marinette si dimentica pure come si chiama. E non si è ricordata che per permettere a Nadia di fare l'intervista, deve badare alla figlia pestifera. Sì, la mia mammina sarà in tipo con Ladybug e Chat Noir! Ah, quanto non la sopporto! Cibius è un amore in confronto. Questa non c'ha un padre, degli zii, dei nonni, dei cugini grandi che la possono tenere e dobbiamo usarla a sentire noi? Eh, Alia? Eh sì, scarica la peste odiosa a quella povera crista di Alia, che è già due sorelline pestifere che vogliono essere prese ammazzate pure loro. Ops, spoiler! Ho dimenticato di dire una cosa ai miei genitori, sono giù in pasticceria. Scusa del cavolo! Potevi inventarti di tutto! Una chiamata urgente, la cacarella, la litigata furiosa con la bici. In club. No, per dire una cosa ai genitori quasi ci metterà un'ora e Alia muta. Vabbè, pensiamo a Nadia che viene pressata e bullizzata da sta donna e quel volto è sconosciuto. Vuoi sapere un segreto? No, no, Chat Chat, no, le milf, no. Gatto marfione cattivo. Non lo fa tuo padre, non lo fare nemmeno tu. Adoro i pasticcini. Ah, ok, allora scusi, va bene. Che non è che è sta grande rivelazione, l'hanno capito tutti ormai. No, non glieli portate via! 8 secondi al più grande fallimento della storia della televisione. E ma dopo che ansia e che palma fatela stare zitta! Ma povera Nadia! A parte che se so chiudete gli occhi, le due poltrone rosse sembrano due corna da diavolo. Oh, è perfetta, oh, perfetta. Insomma, a parte l'intervista di Nadia che ha sto orologio strano che indica il numero degli ascolti, tipo le visual, no? Abbiamo qualche segreto sulla nostra identità, per esempio. Ah, questo più sta più mi inquieta. E le fanfiction non aiutano. E niente, la prima cosa che ti viene in mente a vedere sta scena è pedofilia, portami via! Ah, no, 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 ragazzi, no, no. Posso pure capire il pedofilone della prima stagione che non immaginava Ian e Ladybug, visto che molti pensavano addirittura che fosse immortale. Ma lui è un portatore di Miraculous, lui sa che un portatore è una persona comune, quindi per altezza tratti, in modo di fare, può capire che è una ragazzina. Quindi tu stai cercando di ammazzarmi una ragazzina. Comunque, questo qui non c'è niente da fare, tipo, non lo so, lavorare! Cioè, lavrai il suo lavoro e perde tempo a fare il guardone di ragazze in calzamaglia. Continuiamo con l'intervista. Peccato che sia davvero soporifera, perché la gente vuole il trash, lo scandalo. Quindi andiamo avanti veloce. E senza di niente, Chanua e Ladybug si mettono a flirtare a caso. E giustamente uno si chiede, ma voi state insieme? E altrettanto giustamente quella risponde. Non è che siccome siamo un maschio e una femmina dobbiamo per forza ciucciare una relazione. Avete mai chiesto alla vedova nera se si fosse fatta tutto il gruppo degli Avengers o solo occhio di palco? E zamm, Nadia tira fuori le foto rivelatrici. Come? Quando è successo? Chanua ha smesso di funzionare. Palese fanservice, eh, ma non lo dite troppo in giro. Oddio, ma aspetta una reazione più eclatante da parte di Chanua. Non ne parleranno più a dire la verità di sta cosa, ma non importa. Ma parliamo di un'altra cosa, parliamo di questa cavolo foto perfetta. Qui ci troviamo in una puntata dove Ladybug e Chanua si stanno a prendere ammazzate con un acumizzato di frecce munito lì vicino. Chi cavolo si è preso la briga di andare lì vicino, giummare sul viso di questi due? Almeno fatela finta, mettete una foto da lontano, una foto sfocata. No, pure le successive sono belle, perfette e perfettamente ravvicinate. Chi cazzo è il vostro fotografo di guerra, spacciatore di foto? Insomma, sta cosa Ladybug non va giù. E con il suo solito tatto da elefante che la contraddistingue in determinate situazioni, se ne va via trasportandosi il micetto. Conclusione, la milfona bionda si incazza con Nadia. Ma ma po', ma perché mi devi incazzare con Nadia? Ma non è colpa sua, lei riferisce ciò che la gente vuole sentire. Il bello è che poi le spengono le luci, se ne vanno tutti e la lasciano là. Cioè, ma da, ma perché? Ma povera! E ovviamente, chi ci sta là pronto da sempre? Papi! Ma questo qui sai quando si è andata a cambiare? Stava venendo l'intervista e poi tipo è scappato nel suo coverit a trasformarsi così a caso. Nadia viene comunque accomizzata in Regina delle Notizie, il cui unico scopo è quello di creare tanto fanservice, cercando di confermare quei due scemi come una vera coppia. Oh, ok, va bene, è un motivo del cavolo, però... Wow, vai Nadia, sei tutto il fandom! Siamo due supereroi, non due star! Dobbiamo fare il nostro lavoro, non perdere tempo in tv! Ma se l'ha detto pure Tiki prima e tu nemmeno l'hai ascoltata! E poi hai accettato tu di andare in tv! Ma che significa? Guardate ora la faccia sconvolta quando scopre che Nadia è stata comizzata! Oh no, eh! Non me puoi fare quella faccia! Sapi che non è nella prima e nell'ultima volta che causi una kuma col tuo bel caratterino! Poi boh, a Nadia viene voglia di imitare Samara di The Ring uscendo da una tv, ma siccome non incute lo stesso timore, decidi di prendere Chloe come ostaggio e buttarla su una metropolitana ad alta velocità. Una volta tanto che quella non ha fatto niente, perché Chloe? Cioè, un accubizzato se la deve prendere con Chloe, anche quando non è colpa sua! Ladybug, Shannuar, vi prego, salvate la mia giacca! Sì ragazzi, salvate la sua giacca! Ancora vi viene in mente di salvare lei, che è più importante la giacca, e mi raccomando! Ammettete in diretta tv che siete innamorati e fermerò la metropolitana! Sì, ma mo che lo fanno, mo che ammettono la cosa, sai che è una bugia e lo dicono solo per farti fermare la metropolitana? Cioè, è palese clickbait, cioè lo vuoi capire? Un supereroe non mente mai, perché dovremmo ammettere una cosa che non è vera? Mo l'hai si detta, mo si detta la cazza! Ma se dite bugia in continuazione, a cominciare dalla vostra stessa identità, e poi guarda, non le conto nemmeno tutte le volte in cui hai detto una balla solo per poter prendere la kuma, o anche per altre cose! Sì, ma io lo faccio per il bene degli altri! E adesso fallo per il bene di Chloe, per salvarla e anche di tutta la popolazione! Menti! Ed infatti adesso i due decidono di far finta di essere una coppia innamorata! Wow, non è passato nemmeno un minuto da quando ha detto che loro non mentono mai, eh! Comunque questa è solo una finta, eh! Sì, sì, è una finta! Per lei, vedete com'è contento lui! Ed infatti ad un certo punto, forse troppa emozione, che ne so, non ce la fa più, e quando lei gli finisce addosso, le fa le fusa! Ma le fa le fusa! Qualcuno dei produttori avrà letto le fanfiction, ho visto qualche fanart un po' così! Vai no, Edby, non essermi così sorpresa! Meglio che tu abbia sentito le fusa, che qualche altra cosa! No, 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 basta, è tutto friendly friendly, tutto a posto, tutto a posto, non dico più niente! Però Nadia è forte, Nadia è un po' come noi, e non le basta la dichiarazione polaccia, e vuole ai farti! E subito Chat Noir non ci pensa due volte e ci prova pesantemente! Collabora! Oddio, che ansia! La faccia da pervertito con la musichetta romantica del ballo di sottofondo paraculante è decisamente cringe! Però, insomma, ci sperano un po' tutti, la faccia di Nadia è tipo la nostra faccia, Però Ladybug non sta bene sta cosa, e ci rovina i sogni di Gloria, manco le avesse fatto una proposta indecente! Poi, boh, oddio, Chat Noir è uno che poi è una cozza allo scoio, ha delle priorità di merda, visto che poi ci riprova una seconda volta rinchiusi in un refrigeratore! Il tutto mentre Nadia rapisce Alia come ostaggio di nuovo e la rinchiude in un sarcofago! Non è la prima volta che questa ha a che fare con roba egizia! Alia sarà forse imparentata con Tutankamon? È il momento del Lucky Charm! Nostro adesivo? Che cosa dovrei farci con questo? Ma che ne so, ma che ne so, ma... Ma tu, la solita domanda del cavolo! Guardati intorno e fatti venire la vista dei cani, come sempre! Sbagliatela questa domanda, date più spazio alla trama! E dagliene mazzate! Mosse di giudo di una ragazzina che mette K.O., una donna fatta e finita! Povera Nadia, proprio oggi non è sua giornata! Ma come sempre, con un po' di culo, non muore nessuno! Peccato! Ah, vado a dire, yuhuu! Chi non è contento, invece, è Pabion, che fa la solita frasetta finale che, secondo me, si prepara ogni volta durante i combattimenti. Qualcuno gli dica che tanto non l'ascolta nessuno! Tutto si conclude con Alia, invitata da Nadia, per una intervista di non si sa quale motivo. Scus! La biondona stronza si è lamentata continuamente di un'intervista ai due supereroi di Parigi. Come fa urla ad andarle bene un'intervista ad una ragazzetta qualunque che ha creato un blog? Boh! Facciamo finta di capire e andiamo avanti con un'altra puntata, che non è in ordine di lista, ma probabilmente viene cronologicamente dopo questa risposta. E poi tu ti volete vedere risposto, vi, mo, tatsu, me, ma comunque, mo, tenetvi forte che questa puntata può provocare sbalzi d'umore, feels, amore, oppure odio puro e incondizionato. Allora, non si sa perché Marinette ha deciso di fare le selezioni per entrare nella squadra di scherma, così, a caso. Cioè, oddio, il vero motivo è perché lo fa Adrion. Ma non so quanto questo possa essere convincente per iniziare uno sport, e comunque, spoiler spoileroso, non verrà presa. E infatti, la prima cosa che fa appena arriva è fa una figura di merda davanti ad Adrion dicendogli tante cose flirtanti a random. E lui, ovviamente, non capisce. Ma Adrion, ma che cazzo dici? Cosa devi fare una più che dirti che sei bellissimo con aria sognante? E dagli le spada. È di tante belle regole che non so, cioè, oddio, la scherma è bellissima, io la duro, però le regole non le so, sono proprio ignorante, fino a quando non arriva Natizia tutta in rosso, per distinguersi dalle comparse, oh. Con già la maschera addosso, che manco si presenta. Buongiorno anche a lei, eh? Buongiorno. Almeno togliti la maschera davanti al professore. No. Che poi questi non hanno un segretario, una segretaria che controlla l'entrata delle persone, tipo, Ehi ragazzina, non vuoi farti vedere in faccia? Non dici il tuo nome? Entri già con la sciabola pronta. Per quanto ne so, potresti essere una terrorista, ma entra pure. E quella, ovviamente, vuole sfidare il più forte in carica, che è, persona a caso, eh? Adrion. Adrion è bravo in tutto, incondizionatamente. Poteva anche essere stato costretto dal padre a frequentare scherma e magari scoprirsi totalmente incapace. Ma no, lui può tutto, lui è bravo in tutto e può farlo. E via di mazzate. E volano tiri da tre moschettieri, spintoni, caprioli a caso, insomma, un cavolo di film giapponese con i samurai che al posto di combattere volano. Poi ad un certo punto si toccano entrambi con una certa grazia, lei mettendosi in posa col culo da gallina e lui toccandole il culo. E nessuno sa dire a chi va il punto. Caso vuole che tali disgrazia di decidere vada a Marinette, che non si è fatta i cazzi suoi per vedere il combattimento. Ma quella, ovviamente, è assai di parte nella sua vita ed ha il punto ad Adrion. La signorina mascherata non lo sa questo e non la prende proprio benissimo. Quindi se ne va infilzando a caso la spada a terra, che poi come faccia questa spada ad infilzarsi sul pavimento visto che non ha la punta è un mistero. Ma frega cazzi, perché Adrion la segue e lei si rivela. Eccola qua. Lei è la nostra Kagami. In Italia è gentilmente cambiata in Katami per evitare le solite battutine del cavolo sul fatto di essere cagati. Però Adrion sembra che abbia visto la Madonna. Oh, una ragazzina è! Anzi, il fandom l'ha odiata prima ancora che arrivasse la puntata Nel trailer i commenti erano tutti del tipo Anna mo bene, quanto è brutta Immaginandosi chissà quale super gnocca strategica Ritrovandosi poi una ragazzetta semplice semplice Oh, senti, io la verità ve la dico Nemmeno a me è piacco il primo impatto Anche perché non è che te la presento nel modo più amorevole possibile Però ora mi pento Perché non è vero, non è così male come sembra E poi secondo me questa qua è un po' zundere, eh? Non dico che sei stato bravo, tu stupido bacca Comunque scopriamo che Kagami Tsurugi è un'altra riccona Che viene da una famiglia di schermidori giapponesi campioni del mondo Alla faccio il waz Però questa è come la puntata di Gamer Cioè che gli brucia la sconfitta e uno viene accumizzato per questo Va bene, se la sconfitta è ingiusta posso capire Ma in entrambi i casi la sconfitta è giusta, è giustissima Siete brave, l'hanno visto tutti, però non siete i numeri uno Cioè, potete farvene una ragione? No Ma tu questa è pazza Poteva ammazzarmi il gorilla Qualcuno salvi il gorilla Ah sì, Adrion, sì, vabbè, salvate anche Adrion Nel frattempo Pabion starà facendo i calcoli sull'assicurazione della macchina La nostra risposta Trasformata in uno specchio ambulante Non a caso il nome Kagami significa riflesso O specchio, vabbè Vuole avere ora la sua vendetta sul biondino confuso Rimani, sta buono e molto tranquillo Ah beh, se me lo dici così allora Mo mi metto proprio qui tutto tranquillamente in mezzo alla strada Aspettando che tu mi tranci in due con quella mano spada Che non mi stai assolutamente puntando addosso minacciosa Ma vabbè, ti aspetto proprio qui, eh Ora che me l'hai chiesto così gentilmente Arriva così Ladybug che Oh wow, non è buona un cazzo senza Chat Noir E viene messa a KO E qua, qua è in Tony Fields Perché Adrion con molta fucciosità La salva finendole addosso come suo solito nella vita Oh mio Dio, due cattini innamorati Però è cala la col si è storto la caviglia Fa nulla che prima si è fatto le peggio cadute Le capriole, che cosa non si è fatto prima Ora per una scivolata si è fatto male Questo è un po' come i cellulari di adesso Fanno 10.000 cadute pesanti e non succede niente Cadono per sbaglio della tasca e boom, suicidati per sempre Però a quanto pare Kagami non li scipa questi due E vai di combattimento con Ladybug Signorina, quella spada Adrion te l'ha data per usarla Non per tenerla come spiedino per marshmallow E qua arriva una quasi trasformazione di Adrion Con una quasi sgamata di Ladybug E poi un altro momento cute Io stascia non sopravvivo, eh Comunque che culo che Ladybug è sorda E non abbia sentito Adrion parlare con Plag Scambiandolo per un cretino che parla da solo Però per cercare un posto sicuro per Adrion Questa lo rinchiude in un sarcofago nel museo Vabbè Poi siccome è bello profanare le tombe di altre O comunque antiche reliquie Gli è dà pure un bacetto Vabbè dai, ti perdoniamo Dai ti perdoniamo Perché è troppo chiuso Appena quella se ne va Ecco il biondino si trasforma in Chat Noir Con sempre la caviglia dolorante E di Bug dite che se ne accorgerà? Ma manco per niente Chat Noir e Adrion Si sono entrambi storti la caviglia alla stessa gamba Mmmmm Nooo Coincidenze Meglio che questa si concentri di nuovo nello spogliare Chat Noir della sua coda Ah ho capito Lady Bug è diventata una feticista di cose Così quella risolve tutto spezzando la spada a Kagami Però Se la spada è diventata un prolungamento del suo braccio Teoricamente le hai spezzato un braccio Ma tutto bene I gemelline Poi non capisco perché molti pensano che in questo momento Lei la stia guardando con uno sguardo innamorato A me sembra solo uno sguardo scioccato da una che dice È questa che mi assomiglia Chi cazzo eh? Oh tutto questo sport mi ha fatto venire fame Più tardi Io già mi sono sempre chiesta se i kwami non soffocassero nelle borse O che comunque non si vedesse il riconfiamento alle giacche quando si nascondono Ma in questa tuta super aderente Dove cavolo se l'è messo Plug? Cioè lo so che a voi non frega una ceppa Perché siete troppo occupati a avere il momento romantico Che carini Tutti timidini Poi lui le ha pure un bacetto da lontano Che cuore Vabbè dai Si vede proprio che è un cavolo di cartoni animato A me non frega un cavolo Perché ste romanticherie esagerate per me sono quasi cringe Quando ho visto Adriano dare il bacetto ho fatto del tipo Lo so Ho il senso romantico di un lampione Credo che il mio animale guida sia proprio Plug Vabbè insomma Adriano va a parlare con Kagami Che ora fa la timidina E sta dolcita di botto È proprio zundere questa È proprio zundere Zundere C'è una zunderella Zunderella E vi dirò Secondo me non è neanche l'unica zunderella in questa serie Forse adesso accetterai di riprenderla No Ho perso Tieni la tua E quindi c'è ma Cioè che cazzo se ne fa quello della spada La spada non era in palio per la vincita Poi magari non so È un cemaglio di famiglia È fa pandano con tutta la tua tuta Ma fa perché sa che è smò Adrion basta che schiocca le dita E gli regalano la spada originale Super figa usata da Napoleone E buona parte in persona E qua si mettono a parlare di Marinette E Kagami per un momento ci fa sognare Lei ti piace molto vero? Oh grazie Kagami Grazie Da quanto tempo conosciamo questa? 18 minuti? E quante volte ha parlato con Adrion? Due volte messa in croce con tre minuti ciascuno? Ecco questa in tre fottutissimi minuti Ha capito quello che sto scemo Non ha capito in 24 puntate bassa Improvvisamente ora Kagami sta simpatica a molte persone Chissà come mai Marinette? Sì certo è un'ottima amica E piacerà molto anche a te quando la conoscerai È un'ottima amica Adrion ma che c***o Adrion? E te l'ha detto Chiariton? E che altro deve fare uno? Ma Adrion ma la f***a? Storati quelle cavolo di orecchie Tu gatto ingrato figlio di tuo padre Beh non ci crede nemmeno lei Però oh non è che siccome quello è scemo e sordo Te ci puoi anche provare eh? Eh con calma state lontana Il fatto è che da brava stalker quale Marinette stava origliando la conversazione E ha senti quella parola Ci rimane un po' maluccio Lo so Marinette Lo so Ma sono cinque stagioni Che dovete stare a fare nel frattempo Un momento aspetta ma in tutto questo la caviglia di Adrion? Si è recuperata con il Lucky Charm o sta ancora morendo lì? Niente retroscena di Gabriel incazzato a bestia che fa tipo Mio figlio poteva morire Sarebbe tipico suo Lui fa i danni Lui lancia Yakuma Mette in pericolo le persone Ma la colpa è sempre degli altri Oh è vero Troppo poco Gabriel in queste puntate No no raga non mi piace sta cosa Datemi Gabriel Gabriel Maria Ciao 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 Grazie a tutti.